La mafia ha paura nasce dall'idea di comunicare ai giovani, soprattutto dopo due anni di pandemia quando è stato lanciato un vero e proprio SOS per il rischio di devianza minori. L'idea è di Avviso Pubblico, che è un'associazione che si occupa di divulgazione proprio di un messaggio positivo. Il messaggio di questo docufilm in particolare è che la mafia non è un fatto delle forze dell'ordine, non è un problema delle forze dell'ordine, la mafia è un problema di tutti, è un problema di tutti noi e tutti possiamo fare qualcosa. A partire dai giovani, l'ultimo rapporto della DIA lo dice chiaramente, i giovani servono alla mafia, quindi è a loro che dobbiamo far arrivare il primo messaggio. Grazie.